Abbiamo passato i primi due giorni a recuperare, principalmente a recuperare l'energia e chi ha giocato. Oggi riuniamo le file e vediamo un attimino. C'è ancora qualche ora per prendere le ultime decisioni, ma mi sembra che da parte di tutti ci sia la convinzione di essere pronti per questa gara. Sì, a destra abbiamo questa emergenza, ma in questo momento non è importante un ruolo, un giocatore. In questo momento è importante la squadra, l'atteggiamento, la voglia, l'essere squadra vera come noi siamo. Sì, è una delle alternative. Lui, Mantovani, vediamo. Per forza deve andare uno di loro. È una delle possibilità, lui o Francesco, Vicari, stanno bene tutti e due. Adesso, ripeto, voglio vedere un attimino. La Vicari giocarebbe centrale? Certo, questo sì. Controverso? Assolutamente. Lei non vede Vicari in attenzione adesso? No, perché c'è sempre una logica nelle cose, quindi io prediligo seguire questa. Viola sta sempre meglio, ora anche lui è stato recuperato, comunque ha fatto 40-50 minuti di partita, sono fatti anche bene, specialmente i supplementari molto bene, si è anche sciolto, quindi vediamo. No, ma sono due giocatori che stanno bene, io sono contento. Poi adesso, ripeto, le partite sono lunghe. come vi ho sempre detto, anzi, come ho sempre detto, ma non lo dico io, sono le statistiche, i risultati cambiano spesso nell'ultima mezz'ora, negli ultimi 15 minuti, quindi non è che chi parte o subito subentra. In queste gare è importante la testa accesa di tutti, di chi gioca, di chi non gioca, addirittura di quelli che non vanno su in tribuna, quindi è importante questo. Sono due gare dove devi dimostrare di meritare di andare avanti, non sono più, non è una gara secca. È chiaro che noi in questo momento sappiamo benissimo, giochiamo contro una squadra che è forte, perché comunque è arrivata davanti a noi, una squadra che ha il capocannoniere, una squadra che rispetto a noi, che abbiamo comunque una gara e il recupero nelle gambe, insomma, di componenti ce ne sono a favore loro, però noi abbiamo una certezza che noi siamo una squadra vera. Io sono orgoglioso veramente di questi ragazzi e devo dire che anche la città, i tifosi, insomma, devono essere orgogliosi di questa squadra. Tutta gente che dal 13 di luglio ha sempre dato tutto, nessuno ha mai dato meno di quello che poteva dare, quindi la nostra forza, la nostra certezza è lì dentro. Non è che mi interessa molto questo, perché queste sono gare, lo vedete, è bastato vedere i primi due incontri, sia noi che la gara di Cesena-Spezia, i valori, poi sono, là sono state addirittura tre palle inattive, due inattive, un fallo laterale che hanno condizionato poi i tre gol. Noi siamo partiti benissimo, la partita sembrava quasi chiusa, è stata rimessa in gioco e poi dopo... Quindi sono partite dove io non mi aspetto niente dall'avversario, se non che è un avversario forte, perché davanti hanno giocatori veramente straordinari, tecnici, veloci, però poi come la partita, la piega che la partita prenderà è importante il nostro atteggiamento, ecco quello è il nostro, non dobbiamo sbagliarlo, quello che farà l'avversario è dire mo'. Ah no, questa è una cosa che viene fuori naturalmente, vedo com'è la competizione, ma sono cose, io faccio il mio lavoro, lì c'è stata una situazione che fa parte del calcio, quindi io non è che sono, io non ho dente avvelenato con nessuno. Sì, ma io anche l'anno prima ci sono arrivato a un punto, cioè non è che uno lavora per dare il meglio di sé, e poi a volte centri un obiettivo, a volte non lo centri, io sono qua, ripeto, orgoglioso di questa squadra, gli obiettivi che, nonostante qualcuno che dica, gli obiettivi non sono io che li dichiaro, gli obiettivi è la società che li dichiara, non è un allenatore che dice il nostro obiettivo è questo. Qui nei nostri obiettivi ha parlato il Presidente, ha parlato il Direttore Sportivo, e la stessa cosa è stata fatta a gennaio, quindi noi adesso siamo qui a disputare una semifinale di playoff perché ci sono dei valori dentro lo spogliatoio, perché ci sono dei valori nei miei giocatori, perché c'è stato un lavoro che non è facile quando arrivi in ambiente nuovo, squadra nuova. Ecco perché dico, lo riconfermo, che la città, i tifosi nostri, devono essere orgogliosi di questa squadra.